Ciao a tutti i videomatori e videomatrici di Senza Fissa di Mora, l'appuntamento per il 26 maggio venerdì alle 21 per Libera il tuo cervello, un corso online di deprogrammazione mentale. Parleremo in particolare delle tecniche di programmazione che vengono attuate per manipolare e controllare le masse, il popolo, i cittadini e soprattutto delle tecniche di deprogrammazione volte a liberarci da queste influenze. Il tutto ad esempio attraverso gli shock informativi, lo sfruttamento di quel fenomeno sociale che viene detto la memoria del pesce rosso, sempre appunto in chiave di deprogrammazione, in una parola una distruzione sistematica dei dogmi e una ricostruzione consapevole. Scrivi a Senza Fissa di Mora 08 chiocciolina gmail.com se sei interessato e ci vediamo venerdì alle 9.